In piazza musicale di Vigioara, tra le emozioni, Romania, suonano le campane a Vigioara, le Romania suonano, la Pasqua autodossa di Vigioara, la sfitta di Preti da paura. Sembra impossibile, la piazza principale di Vigioara, palazzi memorabili, che spettacolo questa piazza qui in centro a Vigioara, ale! E non ammettono di suonare più le campane. Un'altra bellissima chiesa. I viali pedonali. Questa è la Romania, questa è il Vigioara. Sembra incredibile, come ballano qua. Le inventano in tutti i colori a Vigioara. Si stanca di maledetto però, molto stracere il sete. E' la dimensione. È un'altra banda. È un'altra banda. Grazie a tutti. 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 Sono Abran. E' questo il castello di Dracula. Grazie a tutti. Il panorama di Dracula. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il ultimo saluto.